Ben ritrovati amici di Rete Sole, siamo sulla terrazza dell'hotel Perusia, nel quartiere di Monteluce per dare uno sguardo verso gli appuntamenti nella nostra Umbria dei prossimi giorni, a cominciare dal Festival Internazionale del Giornalismo che torna nella sua veste più scintillante per questo 2024. Il Festival è stato presentato a Perugia dagli organizzatori storici alla presenza delle istituzioni. Andiamo a vedere. Il Festival Internazionale del Giornalismo si prepara a inaugurare la sua edizione più internazionale di sempre, grazie alle numerose e significative proposte ricevute durante la fase organizzativa dell'evento. Arianna Ciccone e Christopher Potter, fondatori e direttori del Festival hanno presentato il programma durante un evento all'hotel Brufani di Perugia, insieme alla presidente della regione Umbria Donatella Tesei e al sindaco Andrea Romizzi. Durante la presentazione Ciccone ha sottolineato l'importanza di affrontare la disumanizzazione presente nel conflitto fra israeliani e palestinesi, annunciando una discussione approfondita su questo tema nei giorni del Festival. Liberate gli ostaggi e cessate il fuoco, ha dichiarato, evidenziando la posizione ufficiale del Festival su questa questione, simile all'impegno preso lo scorso anno durante l'invasione russa in Ucraina. Il Festival compie 18 anni, ma è ancora in fase di crescita e questo è un ottimo segnale, hanno sottolineato ancora Ciccone e Potter, perché è un evento considerato unico e magico grazie al lavoro di questi anni, che ha visto crescere e ampliare sempre più la rete di partecipanti, fra speaker e pubblico e la sua community internazionale. A conferma della reputazione globale del Festival, Ciccone e Potter hanno ricordato l'invito ricevuto lo scorso ottobre a New York, dove hanno presentato il modello del Festival perugino all'incontro annuale delle fondazioni filantropiche che sostengono il giornalismo. E ora da qui, da Monteluce, da questo bellissimo scorcio di Perugia, dell'Umbria, di Assisi, andiamo niente meno che a Cuba, a Lavana, per Hub Particular, un progetto del quale è capofila il comune di Gualdo Tadino. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Hub Particular, questo è il nome del progetto attraverso il quale sono stati inaugurati a Lavana tre diversi spazi dove dedicarsi ad attività di vario genere, oltre al laboratorio di ceramica di Varadero, località cubana situata sulla costa nord della provincia di Matanzas, visto il ruolo di soggetto capofila della comune di Gualdo Tadino, dal 26 febbraio al primo marzo la delegazione del progetto si è regata nel suggestivo paese della Centro America per prendere parte all'apertura ufficiali dei vari siti progettati, sul posto anche il sindaco gualdese Massimiliano Presciutti. Un bel gruppo. Un bel gruppo, un gruppo di lavoro ma anche di amicizia che ha lavorato con grande coesione per ottenere risultati importanti, penso che sarà naturale fare un percorso che ci apprestiamo a continuare, un grazie ad AICS, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, perché siamo sicuri che questo è un progetto importante ma non l'ultimo. Per quanto riguarda i nuovi centri presenti a Lavana, spicca sicuramente quell'hub particolare che dà il nome al progetto concepito per affungere da sede logistica dei prodotti artigianali da vendere sui mercati internazionali. A Varadero invece la comunità locale può invece contare sul taller ceramico fortemente rinnovato grazie all'arrivo di moderni macchinari che consentiranno di incrementare la produzione di ceramica. Grazie. Grazie alla parte italiana per gli sforzi fatti alla fine di donare le attrezzature necessarie così da avviare il processo produttivo. Oggi con grande felicità ci proiettiamo verso la fase iniziale con l'apertura del laboratorio di ceramica il cui obiettivo è quello di dare alle persone vulnerabili che risiedono a Cardenas una concreta possibilità di apprendimento. Nella corso dei vari incontri istituzionali che si sono ottenuti a Cuba è stato riconosciuto l'importante ruolo della cooperazione internazionale tra l'Italia e lo Stato caraibico. Indubbiamente è stato rafforzato quel concetto di amicizia quanto mai fondamentale in un momento storico segnato da forti tensioni a livello geopolitico. Wonder Woman, il fumetto è femmina, un'estemporanea. La mostra al minimetro di Perugia insieme alla biblioteca delle nuvole, le donne come eroine quotidiane. Questa è quanto propone con la direzione artistica di Laura Cartocci un appuntamento, una mostra sulla parità di genere e l'inclusione. Vediamo. Wonder Woman, il fumetto è femmina, un'estemporanea di fumetti per promuovere la parità di genere e l'inclusione. Le donne come eroine quotidiane sono le protagoniste della mostra ospitata da Mini Metro SPA grazie a un'idea per la vita onlus e biblioteca delle nuvole con la direzione artistica di Laura Cartocci. Una serie di pannelli illustrati in ogni stazione del Mini Metro visibili fino all'8 aprile. La società Mini Metro ha voluto riprendere il programma di iniziative precedentemente pianificate nel mese di marzo 2020 ed annullate a causa dell'evento pandemico derivante dal Covid. Queste iniziative hanno l'obiettivo di promuovere il Mini Metro non solo come mezzo di trasporto sostenibile ma anche come luogo all'interno del quale realizzare eventi sul tema dell'arte, dell'ecologia, della sostenibilità e della bellezza. Queste le parole per conto dell'azienda di Valentina Treppiedi. Le donne oggi sono presenti come protagonisti, ha spiegato il direttore di biblioteca delle nuvole Claudio Ferracci, e il fumetto è un mondo dove le barriere sono state rotte essendo pieno di donne disegnatrici. Importante è anche il messaggio di Laura Cartocci che ha ringraziato per essere stata coinvolta in un'iniziativa di benessere, salute e sostenibilità e ha poi ricordato l'impegno della sua associazione nata nel 2019 con cui si dedica a raccolte fondi e a progetti di solidarietà. L'iniziativa è stata possibile anche grazie all'Accademia di Belle Arti che ha messo a disposizione i cavalletti per le artiste. I disegni realizzati verranno poi donati all'associazione Un'idea per la vita Olus. Ha preso il via Foligno e Dotto Club, un ciclo di 5 appuntamenti pensati con l'obiettivo di contribuire a sviluppare idee per una nuova cultura d'impresa. Un totale di 5 incontri in programma fino a luglio. È partito a Foligno e Dotto Club, progetto che punta a sviluppare idee per una nuova cultura d'impresa. Organizzato da Edotto e Creo, questo breve ciclo di appuntamenti e ingresso gratuito è rivolto sostanzialmente a imprenditori e professionisti con l'obiettivo di approfondire le dinamiche emergenti del nuovo modo di muoversi nell'imprenditoria. Intelligenza artificiale e conflitto d'azienda sono stati solo due dei tanti temi affrontati nel corso dell'evento tenutosi nella sede Folignate di Edotto situate in Viangelo Morettini. A proposito di intelligenza si è parlato di quella artificiale così come di quella emotiva in modo tale da spiegare come sia possibile integrare l'efficienza degli algoritmi con la complessa profondità dell'esperienza umane. Archiviato il primo evento si guarda già al prossimo che si trà giovedì 4 aprile e che si intitolerà Genitori e Figli. Il passaggio generazionale, partecipazione come sempre gratuita, è riservata ad un massimo di 30 persone. Ora andiamo al Trasimeno perché la pesca tradizionale del lago è stata riconosciuta nei giorni scorsi presidio Slow Food. Un passaggio importante arrivato dopo mesi di lavoro, la pesca tradizionale del lago Trasimeno si può considerare a tutti gli effetti presidio Slow Food, fondamentale in tal senso la passività di un'attività simile perché la tradizione vuole che le reti vengano stese e che si attenda che i pesci rimangano imprigionati nelle maglie, secondo il periodo e la loro taglia. Insomma, niente pesci piccoli né specie fuori stagione. Secondo l'assessore regionale Roberto Morroni, i presidi di Slow Food sono un patrimonio identitario perché di fatto vanno a coniugare la tradizione del passato e elementi attuali puntando alla sostenibilità. Un presidio di questo tipo dunque è estremamente significativo, se non altro perché la pesca che si continua a praticare nella Trasimeno si tramanda di padre in figlio e soprattutto si tratta di un mestiere difficile che presuppone uno straordinario rapporto uomo-natura, obiettivo dichiarato ad oggi quello di contribuire a valorizzare le ricette di cucina antiche e moderne legate alla pescato, una qualcosa di complesso in termini di esecuzione per chi non è originario del posto ma di sicuro gradimento per il consumatore e per il turista. Termina qui la puntata di Una finestra su, se lo volete ci ritrovate la prossima settimana per scoprire tutti gli appuntamenti culturali e sociali della nostra Umbria. Vi ricordiamo che ci potete trovare anche sui nostri canali social, Instagram, Facebook e anche su YouTube. Buona serata!